L'inglese è importantissimo per il lavoro. English Training lavora con aziende multinazionali da quasi 20 anni. Adesso facciamo corsi utilizzando queste metodologie per chi vuole imparare l'inglese per migliorare la propria carriera. Quindi facciamo corsi serali con piccoli gruppi di massimo 6-7 persone. Quale è il termo? Forma. Formality. Formality. Enthusiastic. Enthusiastic, yes. Musica. L'ervis è già scritto. Flexibilità. 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 il third syllable, flexibilità.